Oggi è l'ottavo incontro dell'Assemblea pubblica mensile perché, come ho detto più volte, la partecipazione, la trasparenza e la condivisione dell'attività amministrativa per noi è un motivo fondante del percorso amministrativo. Quest'oggi il tema era la scuola del futuro. Chiaramente parlavamo della nostra scuola Andrea Doria e di tutto quello che è stato dal primo giorno di insediamento dell'amministrazione sino ad oggi. Una brevissima carrellata ha visto subito la realizzazione della videosorveglianza interna alla scuola legata purtroppo a dei furti che c'erano stati negli anni indietro. È stata terminata un mese fa, quindi abbiamo tutta la scuola e i perimetri videosorvegliati. Tra il mese di luglio, agosto e settembre abbiamo fatto circa 54 mila euro di manutenzioni ordinarie. Tutte le segnalazioni fatte dal mondo scuola negli ultimi cinque anni andati nei vasi le abbiamo realizzate. Abbiamo preso 2 milioni di finanziamento pubblico per realizzazione della nuova scuola media. Stiamo prossimi a vedere partire tutta quella serie di lavori di riqualificazione, parcheggi, parco giochi e quant'altro del perimetro. Quindi oggi con quello che era l'attività amministrativa abbiamo voluto coinvolgere anche i docenti, i genitori e gli insegnanti in un'assemblea dove ci fosse questa condivisione. Non ultimo, una delle mie più importanti battaglie elettorali era stata quella per cui far passare una strada pubblica che andava al centro commerciale dentro la scuola era una cosa assurda. Siamo riusciti a fare un'idea progettuale che possa soddisfare le esigenze della viabilità pubblica e quindi anche questo problema lo diamo per risolto.